Bella a tutti ragazzi, io sono JJ e questo è un nuovo video di comandi oggi vi insegnerò come creare dei custom malls cosa sono i custom malls? allora, in pratica, quando voi spaccate un comunissimo OR vi darà qualcos'altro, allora è molto facile, scusate non so come si pronuncia OR, vabbè quella roba là, insomma come potete vedere, io lo spacco al posto della redstone mi dà delle fornaci, allora voi lo potete fare con tutto quello che volete i comandi sono questi allora, come ho già detto nel video di prima dovete solamente scrivere give chiocciola P poi questo basta che scrivete com e poi fate tab allora, sotto dovete mettere questo comando e ovviamente li lascerò in descrizione sopra questo e dopo in mezzo ci dovete mettere un blocco di redstone è molto importante che IR stia sotto e redstone sopra perché se no non funziona ebbene il primo comando scusate non è questo è questo qui, allora dovete mettere scherzavo scusate questo è il primo allora scoreboard players set insomma questo qua e vi spiego qui dovete metterci il nome di una scoreboard le scoreboard si creano così allora dovete scrivere scoreboard objectives poi add mettete il nome che volete io ho messo custom e poi dovete scrivere dummy vabbè, appunto esiste già appunto io ho messo custom e qua invece ci mettete l'id del blocco cioè del tipo di or volete che si trasformi allora io ho messo redstone vedete che qua sotto c'è scritto redstone infatti quando lo droppo viene fuori una fornace il secondo invece dovete, vabbè qua scrivete di nuovo il nome della scoreboard per due volte e poi invece qua mettete il nome dell'oggetto che volete che venga fuori ossia minecraft fornace allora per esempio se io qua metto minecraft due punti lapis mi pare che si chiami così no scherzavo metto qualcosa di più semplice metto coal ecco invece qui metto diamond adesso io se metto del coal ecco darà un diamante al posto del coal potete farlo con tutto quello che volete tanto ogni cosa è un suo drop tranne alcune quindi spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia soprattutto stato utile se è così iscrivetevi e lasciatemi un like se invece non è così lasciatemi un commento così che possa capire come migliorare bella ragazzi e per oggi è tutto ciao ciao